Vedendo i dati vedo una Juve molto più verticale, più semplice. La Lazio secondo me in fase di possesso costruisce di più, cerca di partecipare tutta la squadra. Però sarà una bellissima partita. Io la vedo favorita la Lazio. Vedi favorita la Lazio. Andrea? Ci può stare, perché comunque la Juve con una squadra tecnica che ha provato sempre a uscire a pala al piede come il Bologna ha sofferto. Ha sofferto e la Lazio di qualità ne ha tanta e quindi mi aspetto una Lazio sicuramente più intraprendente rispetto a Napoli. Quindi potrebbe subire di meno una partita molto equilibrata. Sinceramente non saprei sbilanciarmi.